Sono 59 in Calabria i progetti per il riutilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata a fronte dei 128 presentati nella Regione che hanno ottenuto il Via Libera nell'ambito dei finanziamenti del PNRR con pubblicazione nel decreto dell'Agenzia per la coesione territoriale. La dotazione finanziaria dei progetti fa sapere il coordinamento regionale di Libera che ha analizzato i dati e di quasi 58 milioni di euro per 30 50 territoriali pari al 19,3% delle risorse totali. 254 sono i progetti complessivamente finanziati che coinvolgono 166 enti destinatari di beni confiscati in sei regioni del sud Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il passo successivo è detto in un comunicato della Segreteria regionale dell'Associazione. Vedrà la pubblicazione della graduatoria entrando nella fase operativa che dovrà portare all'esecuzione degli interventi progettati dai comuni Sarà fondamentale monitorare con attenzione questi percorsi perché finanziamenti e disposizione vengono impiegati presto e bene.